E' il ponte sospeso più alto al mondo. Si trova in Cina, a 565 metri d'altezza, sul canyon del fiume Nizu, nel sud del paese. La costruzione è stata completata questo sabato, con l'aggiunzione delle due estremità. Il ponte Beipanjang è dunque pronto per stupire i coraggiosi che sfideranno la paura del vuoto. Ci sono voluti tre anni di lavoro in un team di oltre mille ingegneri e tecnici per completare il progetto. Alla fine di quest'anno il ponte sarà percorribile e aperto al pubblico.